Sono grato della benedizione di poter parlare a voi, che siete le figlie di Dio entrate nell'Alleanza. Il mio scopo stasera è quello di incoraggiarvi nello svolgimento del grande servizio al quale siete state chiamate. Sì, perché ogni figlia di Dio che sta ascoltando la mia voce ha ricevuto una chiamata dal Signore, Signore Gesù Cristo. La vostra chiamata ha avuto inizio quando siete state mandate su questa terra, in un luogo e in un tempo scelti per voi da un Dio che vi conosce perfettamente e vi ama come Sue figlie. Nel mondo degli spiriti egli vi conosceva e vi ha istruito e in seguito vi ha posto laddove avreste avuto la possibilità rara nella storia del mondo di essere invitate a entrare in un fonte battesimale. Lì avete udito un servitore chiamato da Gesù Cristo pronunciare queste parole. Essendo stato incaricato da Gesù Cristo, io ti battezzo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siete uscite dall'acqua avendo accettato un'altra chiamata a servire. Come figli di Dio, appena entrate nell'alleanza, avete fatto una promessa e ricevuto un incarico nella Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, della quale siete state allora confermate membri. Avete patuito con Dio di prendere su di voi il nome di Gesù Cristo, di osservare i Suoi comandamenti e di servirlo. Ogni persona che stringe queste alle alleanze sarà chiamata dal Signore a svolgere un servizio concepito perfettamente su misura per lei. Tuttavia, tutte le figlie e tutti i figli di Dio che sono entrati nell'alleanza hanno in comune un'importante e gioiosa chiamata, quella di servire gli altri per conto del Signore. Parlando alle sorelle, il Presidente Russell M. Nelson ha riassunto meravigliosamente in cosa consiste la chiamata del Signore, a unirvi a Lui nella Sua opera. Ecco come il Signore Nelson l'ha descritta. Il Signore ha detto, «Questa è la mia opera e la mia gloria, far avverare l'immortalità e la vita eterna dell'uomo». Così, la Sua devota figlia e discepola può veramente dire «La mia opera e la mia gloria è aiutare i miei cari a raggiungere questo obiettivo celeste». Aiutare un altro essere umano a realizzare il suo potenziale celeste fa parte della missione divina della donna. Come madre, insegnante o nutrice, è la plasma, la creta vivente per darle la forma delle sue speranze. In società con Dio, la Sua divina missione è quella di aiutare gli spiriti a vivere e le anime a innalzarsi. Questa è la misura della Sua creazione. È una cosa nobilitante, edificante ed esaltante. Non potete sapere quando o per quanto tempo la vostra missione personale sarà quella di servire nella chiamata di madre, di dirigente o di sorella amministrante. Il Signore, poiché ci ama, non lascia scegliere a noi il momento, la durata o la sequenza dei nostri incarichi. Ciò nonostante, voi sapete dalle scritture e dai profetti viventi che tutti questi incarichi verranno affidati, in questa vita o nella prossima, a ogni figlia di Dio. E tutti serviranno a prepararvi al più grande dei doni di Dio, la vita eterna in famiglie amorevoli. Sarà saggio da parte vostra cercare con tutto l'impegno di prepararvi adesso, tenendo a mente il fine ultimo. Questo compito è facilitato dal fatto che ognuno di questi incarichi richiede per lo più la stessa preparazione. Partiamo dall'incarico di sorella amministrante. Che siate una ragazza di dieci anni in una famiglia in cui è venuto a mancare il padre, che siate la presidentessa della società di soccorso in una città appena devastata da un incendio, o che siate convalescenti in ospedale dopo un intervento chirurgico, avete tutte la possibilità di adempiere la vostra divina chiamata di figli amministranti del Signore. Sembrano incarichi di ministero molto diversi tra loro, ma in realtà tutti richiedono come preparazione un cuore capace di amare, un'intrepida fede nel fatto che il Signore non dà alcun comandamento senza preparare una via e il desiderio di fare e di andare e fare per conto suo. Poiché è preparata, la ragazza di dieci anni stringe le braccia attorno alla mamma rimasta vedova e prega per sapere come aiutare la propria famiglia e non smette mai di farlo. La presidentessa della società di soccorso si era preparata a ministrare prima che scoppiasse quell'incendio imprevisto. Aveva imparato a conoscere ed amare le persone. Negli anni la sua fede in Gesù Cristo era cresciuta grazie alle risposte che aveva ricevuto dal Signore quando lo aveva pregato di aiutarne i piccoli atti di servizio che compiva per lui. In virtù della sua lunga preparazione era pronta e desiderosa di organizzare le sue sorelle affinché ministrassero alle persone e alle famiglie in difficoltà. Una sorella convalescente in ospedale dopo un intervento chirurgico era preparata a ministrare agli altri malati. Per conto del Signore aveva ministrato tutta la vita a ogni forestiero come fosse stato un suo vicino di casa o amico. Quando ha sentito nel cuore di essere chiamata a ministrare all'interno dell'ospedale ha servito le persone con così tanta forza d'animo e con così tanto amore che gli altri pazienti hanno iniziato a sperare che non si rimettesse troppo in fretta. Nello stesso modo in cui vi preparate per il ministero voi potete e dovete preparare per quando arriverà la vostra chiamata come dirigenti per il Signore. Guidare le persone e insegnare con coraggio la parola di Dio richiederà una fede in Gesù Cristo che affondi le radici in un grande amore per le scritture. Allora sarete preparate per avere lo Spirito Santo come vostro compagno costante. Sarete felici di rispondere lo farò io quando la vostra consigliera nelle giovani donne vi dirà con il panico nella voce la sorella Alvarez oggi è malata. Chi terrà la lezione alla sua classe? Parlando alle sorelle lo stesso la stessa preparazione arriverà quando il Signore vi chiamerà a essere delle madri. una preparazione necessaria di avere la fede in Gesù Cristo di quanto ce ne sia mai stata nel vostro cuore. Vi richiederà una capacità di pregare, di ricevere l'influenza, la guida e il conforto dello Spirito Santo che oltrepassi ciò che credevate essere possibile. Potreste ragionevolmente chiedervi come posso un uomo di qualsiasi età sapere di cosa hanno bisogno le madri? È una domanda legittima. Come uomini non possiamo sapere tutto ma possiamo imparare alcune lezioni mediante le rivelazioni di Dio e possiamo imparare alcune dalle osservazioni se cogliamo l'occasione di cercare l'aiuto dello Spirito per capire ciò che osserviamo. ho osservato Kathleen Johnson Nairing durante i nostri 57 anni di matrimonio. È madre di quattro figli e due figlie. A tutt'oggi ella ha accettato la chiamata di esercitare la sua influenza materna su più di cento membri diretti della famiglia e su centinaia di altre persone che ha adottato nel suo cuore di madre. Ricordate la perfetta descrizione fatta dal Presidente Nelson della missione divina di una donna che comprende quella di madre. Come madre, insegnante o nutrice, ella plasma la creta vivente per darle la forma delle sue speranze. In società con Dio la sua divina missione è quella di aiutare gli spiriti a vivere e le anime a innalzarsi. Questa è la misura della sua creazione. Per quel che ho potuto vedere, mia moglie Kathleen si è assunta a questa responsabilità che compete alle figlie del padre. Il punto, a mio avviso, sta nelle parole. Ella plasma la creta vivente per darle la forma delle sue speranze in società con Dio. Kathleen non ha forzato, ha plasmato. Ha avuto un modello sul quale ha fondato le proprie speranze e sul quale ha cercato di plasmare coloro che ha amato e che ha maternamente accudito. Come ho potuto constatare in anni di osservazione accompagnata dalla preghiera, questo modello è stato il Vangelo di Gesù Cristo. È diventando donne dell'alleanza in società con Dio che le straordinarie amorevoli figlie di Dio hanno sempre esercitato la maternità, la leadership e il ministero, osservendo in qualunque modo il luogo Egli avesse preparato per loro. Vi prometto che troverete gioia nel viaggio verso la vostra dimora celeste, se tornerete a Lui come figli di Dio che osservano le alleanze. Attesto che Dio vive e vi ama. Il suo beniamato figlio guida in ogni singolo dettaglio la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Il Presidente Russell M. Nelson è il suo profeta vivente. Joseph Smith vide Dio Padre Gesù Cristo in un bosco di Palmyra nello stato di New York e parlò con loro. Lo so, ciò che è vero nel sacro nome di Gesù Cristo. So che Lui risponderà alle vostre preghiere. Il vostro Padre vi ama. Gesù Cristo è il vostro Salvatore. Vi ama e tramite la sua espiazione potrete essere purificati e innalzati nelle chiamate alte che viveranno. E dico questo nel sacro nome di Gesù Cristo. Amén.